La proposta della Giunta Barbieri di vendere una quota di azioni IREN per incassare tra i 4,3 e i 4,9 milioni di euro da destinare a opere pubbliche, discussa ieri in sede di commissione d'esame, ha subito una inaspettata battuta d'arresto. La pratica è stata rinviata a causa della formale richiesta avanzata dai liberali che con il voto della minoranza e di Forza Italia ha imposto il rinvio della vendita. Non si tratta di una bocciatura, ma di una sospensiva su una delibera importante di politica economico-finanziaria. Una richiesta, quella dei liberali, che era stata preannunciata con un polemico comunicato e che ha trovato sostegno in altri esponenti politici. La sospensiva è stata infatti approvata anche grazie al decisivo voto favorevole di Forza Italia, rappresentata dal presidente della commissione Mauro Saccardi, che è andata a saldarsi a quello delle minoranze a eccezione di Roberto Colla, che si è astenuto. 16 no contro i 14 si di Lega, Fratelli d'Italia e Michele Giardino. Interventi critici anche di Antonio Levoni e Massimo Trespidi. L'assessore al bilancio Paolo Passoni, che a inizio seduta aveva illustrato la pratica, dopo aver ribattuto alle osservazioni ha lasciato la commissione, facendo notare che la decisione di vendita era già stata inserita dal novembre scorso nel documento unico di programmazione. Grazie a tutti.